Ciao, io sono Angela e tu sei sul mio canale Tutto dal Web. In attesa della grande puntata che andiamo a vedere questa sera su canale 5 del Grande Fratello Vip 6, vediamo la provocazione di Nathalie Caldonazzo nei confronti di Delia Duran. Delia Duran questa settimana è stata per lei di grande sofferenza. All'interno infatti della casa del Grande Fratello Vip in tantissime tra le concorrenti si sono schierate proprio dalla parte di Delia e hanno ritenuto il comportamento di Alex molto eccessivo. Una di queste è Valeria Marini che ha commentato Alex deve mettere un punto a questa cosa, se veramente continua così con questo comportamento devi metterci tu, riferendosi a Delia, un bel punto in diretta. Vedendo la sofferenza di Delia Duran per la situazione sentimentale, Nathalie Caldonazzo gli dice Delia, ma perché non reagisci? E Jessica se le a sé le suggerisce Dovresti levarti l'anello del matrimonio, non ha più un valore gli dice ovviamente Jessica dopo tutto quello che Alex gli ha fatto e così parte la provocazione di Nathalie Caldonazzo nei confronti di Delia Sai cosa devi fare in diretta? Ti alzi, togli l'anello e lo metti a soleil e gli dici state bene così Riuscirà a togliersi l'anello Delia questa sera e fare ciò che gli ha suggerito Nathalie Caldonazzo? Lo scopriremo presto, fatto sta che da due giorni a questa parte molte delle concorrenti che stavano prima vicine a Delia adesso hanno fatto qualche passettino insieme, indietro per colpa di qualche incoerenza proprio della stessa moglie di Alex Belli in tanti e anche fuori dalla casa secondo me non riescono a capire come fa una moglie a comportarsi in questo modo dopo che il marito l'ha tradita in modi diversi, artistici o non davanti a milioni e milioni di tre spettatori italiani scrivimi tu che cosa ne pensi lascia un mio like se ti va e attiva la campanellina perché ricordati solo così non ti potrai perdere questo ma nessun altro ma nessun altro prossimo video